Testa alla Cremonese, non potrebbe essere altrimenti per l'Avellino che ieri ha ripreso a lavorare sul sintetico del Partegno Lombardi. Una sola seduta pomeridiana davanti agli occhi dei tifosi irpini e euforici per il successo ottenuto in rimonta contro il Brescia. Novellino ha dovuto fare a meno dei nazionali Radu e Marchizza e Di Gavazzi che si è recato a Bologna per un consulto specialistico. L'esterno è rientrato in serata e stamattina era già in campo, mentre un piccolo allarme che dovrebbe però subito rientrare riguarda Migliorini. Il difensore, che tanto bene sta facendo in questo inizio di stagione, ha lamentato un affaticamento al quadricipite della coscia destra, per lui terapie ed allenamento differenziato, ma non dovrebbe essere in dubbio per la trasferta di Cremona. In tal caso Novellino potrebbe affidarsi anche a Kresic o allo stesso Marchizza, che venerdì farà rientro ad Avellino, ma che difficilmente potrà essere gettato nella mischia in un ruolo così delicato e soprattutto in una trasferta molto ostica. Diverse le soluzioni che il tecnico di Montemarano sta avvagliando per l'automancino, con D'Angelo che non è dispiaciuto contro il Brescia ma in panchina. C'è l'Asic che scalpita. Il capitano potrebbe essere così nuovamente dirottato al centro al fianco di Ditacchio con Moretti, che si accomoderebbe così in panchina. Da non sottovalutare nemmeno l'ipotesi Morosini a sinistra con l'inserimento in campo di Castaldo dopo il gol vittoria contro le rondinelle, ma per gli esperimenti c'è sicuramente tempo. Oggi doppia seduta a porte chiuse di mattina, a porte aperte il pomeriggio.